Ti prego, aspetta, ti prego. Come tuo paziente, il Signor Oscuro ti avrà rivelato tutti i suoi segreti. Dov'è il suo pugnale? Un pugnale? Io non ne so niente, ti giuro. Non ne sai niente, è vero. È il suo punto debole. Però potresti dirmi se ne ha altri. Molto bene. Sai, ho sempre desiderato sezionare un Grillo. No! Aspetta, aspetta, per favore. Finalmente si ragiona. Allora dimmi, Grillo, qual è il suo punto debole. Ciao! Che c'è? Cosa è successo che non potevi dirmi al telefono? Ce l'ho fatta. Posso andarmene. Puoi attraversare il confine della città. Sì, esatto. Quando verserò questa pozione sull'oggetto più caro che ho, quell'oggetto diventerà un talismano che mi permetterà di uscire da Storybrooke, riuscendo a ricordarmi chi sono. E chi stai cercando? Mio figlio. Quale... quale oggetto userai? Beh... Questa mantella è tutto ciò che mi resta del mio Belfire. Qualcosa mi dice che non potrà venire con te. No, io... io vorrei che tu potessi, ma... purtroppo la pozione basta per un solo oggetto. Ehi... questo è il mio viaggio, Belle. Il mio viaggio è qualcosa che devo affrontare da solo. Lo so. C'è una bestia feroce che semina...